Antinfiammatori alla curcuma, i 5 migliori rimedi. Grazie al suo apporto di curcumina, la curcuma è un ingrediente perfetto per diversi rimedi antinfiammatori tanto per uso topico, quanto per consumo orale. I rimedi antinfiammatori alla curcuma sono sempre più popolari, grazie alla loro efficacia. Questa pianta medicinale, infatti, riduce le infiammazioni, ci protegge dai radicali liberi ed elimina le tossine che si accumulano nell'organismo. In combinazione con altri ingredienti medicinali, come il cocco, la cannella, l'olio d'oliva e il pepe nero, possiamo preparare dei rimedi antinfiammatori alla curcuma tanto efficaci quanto deliziosi. Scopriteli e lasciatevi sorprendere dal loro incredibile sapore. 5 rimedi antinfiammatori alla curcuma La curcuma, curcuma lunga, è una pianta medicinale con delle proprietà antinfiammatorie molto potenti. Ha particolare rilievo anche per le sue proprietà antiossidanti e per la sua capacità di migliorare il funzionamento del fegato. Inoltre, appartiene alla stessa famiglia dello zenzero, un'altra spezia dai grandi benefici curativi. Grazie a queste proprietà, la curcuma è una spezia molto salutare che può essere aggiunta a qualsiasi tipo di ricetta. Tuttavia, in questo articolo condivideremo con voi alcuni rimedi specifici per incorporarla nella dieta in modi diversi. 1. Latte d'oro Questa bevanda è uno dei più buoni rimedi antinfiammatori alla curcuma, grazie al suo dolce sapore. Possiamo prepararlo con latte vaccino o di cocco, se vogliamo che sia più facile da digerire. È anche un'opzione migliore del caffè per ottenere energia. Infine, ci apporta una grande quantità di minerali e ci aiuta a rafforzare il sistema immunitario. Ingredienti 1 bicchiere di latte vaccino o di cocco 200 ml 1 cucchiain di curcuma in polvere 4 g Miele o stevia A piacimento Preparazione Bollire il latte con la curcuma per 5 minuti Addolcire a piacere e bere 2. Infuso aromatico Questo infuso no è solo un antinfiammatorio alla curuma, ma ha anche proprietà digestive. Se la beviamo calda, ci conforta e ci rilassa, mentre da fredda può essere una bevanda rinfrescante e deliziosa da bere durante la giornata. Ingredienti 1 litro d'acqua curcuma in polvere 4 g Cannella in polvere 4 g Zenzero in polvere 4 g Semi di anice 4 g Semi di cardamomo 5 g Preparazione Bollire l'acqua e aggiungere semi di anice e di cardamomo Lasciar bollire per 10 minuti A fuoco spento, aggiungere la curcuma, la cannella e lo zenzero in polvere Coprire la pentola e lasciar riposare 10 minuti Addolcire piacimento e bere 3 Rimedio con olio d'oliva e pepe nero Una ricerca condotta nel 2014 ha dimostrato che la piperina presente nel pepe migliora l'assorbimento della curcumina Inoltre, se poi aggiungiamo un grasso sano, come può essere l'olio d'oliva, otterremo un rimedio antinfiammatorio molto più potente Ingredienti 8 cucchiai di curcuma in polvere 80 g 4 cucchiai di pepe nero in polvere 40 g 4 cucchiai di olio extravergini d'oliva di prima spremitura a freddo 60 ml Preparazione e assunzione Premescolare i tre ingredienti e conservarli in un recipiente a chiusura ermetica Assumere uno cucchiaio al giorno, a digiuno 4 Colorante alimentare Gran parte delle proprietà medicinali di questa spezia sono dovuti alla curcumina, che è il pigmento giallo presenti nel rizoma Per questo motivo, la curcuma può essere un sostituto dello zafferano come colorante alimentare naturale Possiamo usarla in qualsiasi tipo di ricetta, sia dolce che salata È ideale in stufati, risi, zuppe e creme, ma anche budini, creme, frullati, gelati e torte 5 Lozione topica La curcuma risulta anche molto benefica sotto forma di rimedio antinfiammatorio e analgesico per uso topico Tuttavia, dobbiamo tenere in conto che potrebbe lasciarci la pelle gialla per qualche ora Per favorirne l'applicazione, possiamo preparare una lozione con olio di cocco e aloe vera Ingredienti 6 cucchiai di olio di cocco 90 ml 3 cucchiai di gel d'aloe vera 45 g 3 cucchiai di curcuma in polvere 30 g Preparazione Mescolare gli ingredienti e conservarli in un recipiente con chiusura ermetica Applicarle sulla pelle come una lozione In caso di infiammazione e dolore, ripetere tante volte quante necessarie Per un контрame Quinti Per un Ja